E' una vicenda che parte da lontano, da settembre 2017, quando nel comune di Laterina-Pergine-Valdarno iniziarono a girare dei volantini satirici contro l'allora sindaco di Pergine, Simona Neri. Da quella data i volantini continuarono ad arrivare e in pochi mesi da satirici diventarono ben presto sessisti, con offese dirette e indirette alla persona prima che alla figura istituzionale. Volantini anonimi distribuiti dai gnoti per il comune, andando così a ferire sia l'istituzione che la persona. A mesi di distanza il sindaco Simona Neri va avanti per la sua strada, senza che queste offese, ripetiamo pesanti e sessiste, oltre che maschiliste, intacchino il suo lavoro, già complesso come appunto quello di amministrare un comune. In suo aiuto però arrivano nomi illustri del panorama politico locale e nazionale. Solidarietà è stata dimostrata dal presidente della provincia di Arezzo e sindaco di Montevarchi, Chiassai Martini, che dichiara Voglio esprimere la mia solidarietà e vicinanza principalmente come donna, ma anche come sindaco e presidente della provincia. Purtroppo tutto ciò conferma quanto ancora abbiamo da fare per l'affermazione di una cultura del rispetto, soprattutto nelle istituzioni e nella politica, principalmente femminile. A lei gli ha fatto eco anche l'ex ministro Boschi, concittadina di Laterina, che dice Le ho parlato direttamente per esprimerle la vicinanza mia personale di tutto il PD, da mesi è vittima di attacchi sessisti, di una cultura dell'odio che va condannata con fermezza. La vicenda è addirittura arrivata a Roma con una lettera scritta proprio dal primo cittadino, Virginia Raggi, che afferma Solidarietà e vicinanza a Simona Neri, sindaca di Laterina per Ginevaldarno, per gli attacchi sessisti e volgari ricevuti. Nulla può fermare la determinazione e la forza di chi è in prima linea ogni giorno per amministrare la cosa pubblica, uniti per contrastare ogni fenomeno di violenza e di odio. Volantini che si spera non si vedano più per il Comune, anche se la vicenda, immaginiamo noi, possa avere dei risvolti giudiziari, con un'inchiesta che potrebbe portare a scoprire i responsabili del reato.